Quindi, nell'HTML, per elementi semantici, si intende tutti quegli elementi che danno un significato particolare al testo che contengono. Come abbiamo visto nel video precedente, e come vediamo in questa figura, i div, per esempio, non sono elementi semantici, perché un div dice semplicemente io sono un contenitore, non dà nessun'altra informazione. Mentre qui a destra vediamo alcuni elementi semantici, quelli principali, e la funzione che svolgono. Per esempio, il tag header dice che quel contenuto si troverà di solito alla testa del sito, oppure all'interno di una parte del sito in cui ci sarà bisogno di un header. Header in italiano significa letteralmente intestazione, però non è proprio traducibile, non so quale sia il termine tecnico. Poi, nav, per esempio, descrive la parte di navigazione. Questa qua è l'impostazione classica di un sito, ma oggigiorno molti siti sono strutturati in modo diverso, poi molti sono delle web app. Non rispecchiano sempre questa impostazione. Comunque, questa è quella classica. Leder. Qui i links, il sistema di navigazione del sito. Qui l'articolo principale. Adesso qui non lo mette, però di solito c'è un tag, che è quello main, che indica l'articolo principale. Poi ce ne possono essere anche altri di articoli. Footer, per esempio, è la parte sotto. Quindi, questi tag semantici, che possiamo o non possiamo utilizzare, visivamente non cambia niente nel sito. Noi usiamo tutti i div o i tag semantici, visivamente la cosa è identica. Le cose che cambiano sono principalmente tre. La prima ha a che fare con SEO. SEO significa Search Engine Optimization, quindi è tutto ciò che ha a che fare con l'ottimizzazione del motore di ricerca. Google, di solito. Google ha dei robot, dei software, che girano in rete e continuamente analizzano tutto ciò che trovano. Se questi robot trovano un sito ben strutturato e che usa tag semantici, avrà più facilità nel capire qual è il contenuto principale, dove sta la navigazione, come è strutturato il contenuto. Quindi questo faciliterà l'indicizzazione del sito o delle sottoparti del sito. Quindi SEO, molto importante. Un'altra cosa importantissima, come abbiamo già detto in passato, è l'aspetto dell'accessibilità. Infatti ci sono alcune persone che per disabilità o perché sono anziane non sono in grado di vedere, di navigare dei menu oppure di vedere del testo. Quindi esistono degli screen readers, addirittura ne esistono alcuni che hanno il braille, quindi l'alfabeto braille, si forma sotto le loro dita per persone non vedenti e che non sentono neanche. Mentre se uno è semplicemente non vedente oppure ci vede poco, utilizza uno screen reader e quindi un'applicazione che legge quello che c'è sullo schermo e che gli consente anche di navigare. Quindi gli dice le scelte che può fare, i vari menu, come navigare nell'interfaccia. Se lo screen reader trova i tag semantici ha una vita facilitata e quindi l'utente ha la vita facilitata perché invece che spiattellarli tutto davanti acusticamente, quindi spiegandogli tutto ciò che c'è nel sito senza alcuna struttura, lo screen reader quando trova i tag semantici è in grado di dire guarda questo è la parte principale del sito, questa è la navigazione, qui trovi questi link, eccetera. Quindi è molto di aiuto a queste persone, quindi l'accessibilità è un punto molto importante anche e poi un altro punto molto importante è il fatto che renda il codice più semplice da interpretare. Per noi quando in futuro dobbiamo tornare sullo stesso codice e quindi lo vediamo organizzato in modo più logico e per se non siamo più noi qualcun altro che dovrà mettere mano al nostro codice, quindi se lo trova strutturato con i tag semantici avrà la vita semplificata. Volevo vedere insieme due esempi, uno un sito in cui fanno utilizzo dei tag semantici e uno in cui non lo fanno. Nel primo non lo fanno, non li utilizzano per niente, questo è un blog di qualcuno, una specie di blog su Medium. Il blog è bello, a me piace molto, è uno sviluppatore che ha fatto dei cartoons per spiegare dei concetti sullo sviluppo del web, sulla programmazione. Sono molto simpatici. Però se andiamo a vedere il codice vedremo che è tutto all'interno di divs, quindi vedete div, 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 div. Vabbè qui ci sono degli scripts perché oggigiorno qui è stato usato un framework per sviluppare questo sito. Comunque, se guardate, c'è un grosso div con all'interno altri div, con all'interno altri div, eccetera. Se prendiamo un elemento a caso, questo elemento sarà contenuto in un div. Quindi, va bene, il sito funziona esattamente nello stesso modo che se si usassero i tag semantici, però appunto non si hanno quei vantaggi di cui abbiamo parlato. Quest'altro sito invece, Affinity Designer, è un bel software alternativo a Illustrator. Questo, se ispezioniamo il codice, fa largo uso dei tag semantici. Vedete, per esempio, header, questo qua, la parte sopra. Main, che prende tutto il contenuto principale del sito, in questo caso tutto. Fino sotto, dove c'è footer. Qua sotto, vedete, footer. Poi, probabilmente, all'interno delle varie sezioni, no, anche questo, non si vede molto, perché questo è stato fatto, credo, con Vue, un altro framework di JavaScript. E, comunque, questo qua sicuramente verrà indicizzato meglio, eccetera, eccetera. Quindi, i tag semantici, qui dice, questa è la pagina di Mozilla Foundation che ne parla, dice sono circa 100 addirittura, ce ne sono disponibili. Questi sono quelli principali. Vediamo di mettere qualcuno di questi. Per esempio, andremo a mettere main, header, possiamo mettere nav e footer nel nostro sito. Vediamo in che punto andrebbero messi, nel nostro caso. Non come vedete header con head, quindi head è la parte dell'HTML in cui, adesso, questa pagina Sudafrica non l'abbiamo mai veramente ottimizzata. Vedete, mancano alcune parti, però va bene per il momento. Comunque, la parte head è dove si mette il titolo, il titolo della pagina, che non il titolo, nel senso di H1, come questo Sudafrica, ma il titolo che appare qui sul file, oppure che appare quando si fa una ricerca su Google. E poi si metteranno altre informazioni qui all'interno di head, ma tutta roba che non appare sul sito, come vi abbiamo già detto. Mentre poi nella parte body si mette tutto ciò che viene visualizzato dal browser. Quindi, il nostro header conterrà, per esempio, Sudafrica e la linea HR. Quindi, creiamo il tag header e andiamo ad avvolgere con questo tag queste due parti, creando un header. Andiamo live con il nostro live server e vedrete che non sarà cambiato niente, appunto, perché non cambia niente a livello visivo. Poi, la navigazione, i tre links, invece che in un div, andiamo a metterlo nei tag nav. Poi, l'immagine, tutti questi spazi possiamo cancellarli, l'immagine e tutto il contenuto possiamo metterli nei tag main. In questo modo. Ok, l'immagine, devo metterla dentro, la metto adesso. Così, vedete, resta tutto uguale perché il browser non lo visualizza. Ok, poi non abbiamo un footer, potremmo creare un footer qui sotto. Quindi, footer, e all'interno potremmo semplicemente metterci un paragrafo con scritto questo e il footer. In questo modo. Andremo a vedere il nostro footer qui sotto. Ovviamente qui, non avendo ancora fatto CSS, è tutto un po' una mezza schifezza, però, esteticamente, però, piano piano, arriveremo a fare anche quello.